Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 28 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Lavoro a casa e fuori. Giornata da urlo con Saturno che vi fa sgobbare a casa e Urano che vi impegna fortemente sul lavoro. Aggiungeteci anche i figli che vi fanno strillare la luna che vi fa spendere controvoglia e avrete un quadro completo della situazione. L'unica cosa che gira davvero bene è lo sport, perciò se dopo l'azienda avete ancora tempo ed energia, per recuperare buon umore non resta che andare in palestra o a correre al parco in compagnia di snopi, farete la sua felicità. Ma a questo punto potreste coinvolgere anche i vostri ragazzi con una partita a pallone, si sfogherebbero diventando un po' più malleabili. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e che vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. L'umiltà è quella che vi dovrebbe guidare in giornata se vorrete cogliere importanti risultati e circondarvi dell'affetto di amici e colleghi. Attenti alle bollette. Buone prospettive per chi pensa di acquistare una casa o semplicemente di ristrutturarla. Possibilità di mutui e finanziamenti. Pensate bene anche al risparmio energetico. Meglio non prendere decisioni riguardo contratti o accordi. Sogni agitati. Favoriti lavori di gruppo e collaborazioni. Socievolezza. Fascino. Un incontro romantico. Evita le azioni impulsive. Fai le cose con calma. Cerca di essere più riflessivo. Se avete perso qualcosa negli ultimi giorni, oggi è possibile che le ritroviate. Ottima intesa con persone amiche e fidate. Attenzione a manipolare gli attrezzi da cucina e gli accessori da bagno. Usate prudenza, tanta prudenza. Stabilisci le cose da solo, oggi. Non fare troppo affidamento sugli altri. Possibili emicronie. Possibili discussioni in famiglia o con i figli. Sì paziente e tolcrante. Una persona che vi interessa oggi avrà solo occhi per voi. Cercate di interessarlo ancora di più e non restate alla finestra a compiacervi, agite in fretta se volete trarne profitto. Se Marte vi dona oggi smalto e grinta, la Luna e Giove vi renderanno sognatori, un insieme di forze planetarie sta per favorirvi. Approfittatene per rendere i vostri sogni delle realtà. Profilo astrale di questa giornata contraddistinto da posizioni altalenanti che vi fanno un po' faticare. Per la vostra natura ardita ci vuole ben altro, ma registrate sicuramente oggi una fase di maggiore stress che pesa sul fisico e forse anche sull'umore in generale. Nettuno continua a tenervi il broncio specie se siete nati nella terza decade. Cheiella, la Luna Sparagnina in Capricorno vi tira i cordoni della borsa ricordandovi che anche per le spese di casa ritenute indispensabili oggi non vi potete allargare, tutt'altro. Con il lavoro in forze e i chiari di luna che non sono esaltanti meglio volare basso per non ritrovarsi poi faccia a terra. A confortarvi il bel trigono di Marte potentissimo in ariete, segno di fuoco in trigono al vostro, forte abbastanza per aiutarvi a superare le ostruzioni messe di traverso dalla coppia Saturno-Nettuno in quadratura e dall'instabilità di Urano che a volte promette ma non mantiene. Amore ed Eros L'aspetto migliore di questo martedì, forti di un magnifico weekend tutto coccole e natura iniziate la nuova settimana con tenerezza e allegria. Qualche predica ai vostri figli che non osservano le regole imposte dal buon senso e, anche se grandicelli, in casa non vi danno una mano. Eppure lavorate tutto il giorno e un aiutino sarebbero perfettamente in caso, se non in dovere, di offrirvelo spontaneamente. E invece va così che tuonate contro le giovani generazioni rapportandole alla vostra, ma un sistema infallibile per farvi ascoltare ce l'avete, riduzione o addirittura taglio drastico della paghetta settimanale, correranno come lepri. Stranamente taciturni in famiglia e con gli amici, solo il partner che vi conosce come le sue tasche sa come prendervi e farvi chiacchierare. Ma che succede, il gatto vi ha mangiato la lingua. Lavoro e denaro? Inquieti soprattutto se avete un'attività improprio che oggi va e domani non si sa. Gli ultimi anni sono stati difficili e anche se i politici millantano una grandiosa ripresa. Voi per ora non ne avete vista nemmeno l'ombra. Anche il gruzzoletto da reinvestire per una buona ripartenza è piuttosto risicato. Insomma si avanti ma. Per parlare di miracolo economico, manco fossero gli anni sessanta, ci vuole proprio una bella fantasia, peggio una faccia di bronzo. Benessere. Mal di schiena, forse nel weekend avete scarpinato troppo, vi siete dati troppo da fare tra scarpinate, pedalate, regate e oggi vi sentite letteralmente a pezzi e molto più nervosi del consueto. Un nativo del sagittario, segno griffato da Giove, dovrebbe prendere la vita con più filosofia e sfogare la tensione con lo sport, ma se avete già i muscoli indolenziti e le ginocchia che fanno cric-crac andare di in palestra o sfogarvi col pungibalo oggi non se ne parla nemmeno. Dieta rustica come nei tempi antichi, credete nelle virtù dei cereali, dei legumi e delle verdure, quanto agli animali, poveretti, meglio che vivano felici e muoiano di vecchiaia. Fesse per voi macellerie e salumerie avrebbero già chiuso da un pezzo. Denaro. Un Giove dissonante dal segno dei gemelli vi rende difficile o poco fluido il maneggio del denaro in specie al modo se siete nati nel mese di novembre. Fate particolare attenzione in questa fase di fine mese. Per lei, allo specchio vi vedete tirate, addirittura invecchiate. Può essere vero, dormite poco, mangiate in fretta e male, spendete un sacco di energia e sul lavoro continuate ad arrabbiarvi inghiottendo aria. Prendetevi cura di voi stesse, rifiorirete. Per lui, con quei terremoti dei vostri figli e il quattro zampe che ci mette del suo in casa vostra le riparazioni sono all'ordine del giorno. Certo, col fai da te si può risparmiare, ma chi sarà l'autore se non voi? Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.